Ragazzi, eccomi giunto nel deserto. Comincio col dire che fa un caldo pazzesco. Stiamo aspettando che arrivino tutti per poi girovacare nel deserto. Nel frattempo stanno sconfiando le bombe delle jeep, perché nel deserto ovviamente possano guidare meglio. Lì giù ci sono i cammelli, cioè in verità ci sono cammelli dappertutto. Facendo una passeggiata col cammello. Ragazzi, bellissimo il giro sulle dune in jeep da pazzi. Corriva come un pazzo. adesso ci stiamo rilassando qui su questa bella vista per poi riprendere tra dieci minuti la prossima tappa è la prossima tappa con le spalle per faremo un giro sul pod e anche sul cammin ora ci saranno vari spettacoli il ricordo di direttore Abbiamo fatto una bella gara io, navigo qui di Maia, Roma-Ieve Adesso ci stiamo godendo questo bel tramonto Ragazzi c'era una fila interminabile per il cammello In questo momento preferisco il barbecue Non vorrei perdermelo Eccolo Vabbè diciamo che è uno spuntino Nel frattempo che comincia lo spettacolo Ho preso altri due di pollo Eccolo 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 Butcher a vedere tutti che accorrono qui. Ho preso un po' di riso, fagioni e poi barbecue di pollo. Vi ricordo che qui non si mangia il maiale, è un animale proibito, non se ne parla nemmeno, a zero. Sono buonissimi questi spietini, come fai a non fare bisse? C'è anche dolce. Sono buonissimi questi spettacoli. beh dopo quest'ultimo spettacolo si è conclusa l'escursione giornaliera qui nel deserto di dubai sono stato veramente felice ne è valsa la pena per quello che ho pagato l'esperienza è stata bellissima ovviamente tempi un po restrittivi perché il quad invece di fare mezz'ora abbiamo fatto 10 minuti cammello c'era troppa gente però va bene era previsto ho fatto tutto quello che c'era da fare dubai penso non manca niente con questa concludo la mia esperienza qui ciao ragazzi ci becchiamo al prossimo video e al prossimo viaggio